Seguiamo una mano al tavolo di Carietto Minieri, vediamo Cristiano Blanco e sempre Guerra in fondo. Vediamo un po' questa mano. Ricordiamo che le Ante 50 e i Bui sono 300-600. Vediamo il flop. 6, donna, zettacolo. C'è un check. Stocca Dario a parlare. Chiamato di Dario. Vedete? 5.000. Qui c'è gialla. C'è il polvo. Dario si è giudicato.